Ciao a tutti ragazzi sono Crea e oggi vi parlo del titolo di Respo Entertainment cioè Titanfall 2 come avete visto la settimana scorsa è stata rilasciata, è stata aperta a tutti la Tech Test una sorta di pre-alpha che serve a testare le capacità dei server in uno stato di stress cioè con parecchi giocatori all'attivo è uno stress test per i server in poche parole la pre-alpha ha contenuti molto limitati dopo un breve tutorial dove imparerete i comandi base del pilota che tra l'altro sono identici a quelli di Call of Duty Black Ops 3 viene ritegate a puntate direttamente nel multiplayer il pilota ha le stesse abilità dei player di Black Ops 3 cioè doppio salto possibilità di effettuare camminate sui muri e possibilità di restare aggrappati vicino a determinate pareti parliamo invece del multiplayer il multiplayer è molto semplice ha per ora solo tre modalità pilota contro pilota che prevede un classico deathmatch senza la possibilità di richiamare il proprio Mac e poi c'è la modalità cattura la bandiera dove ci sono ovviamente tre bandiere sulla mappa e bisognerà conquistarla e far scendere i ticket degli avversari a zero e lì potrà essere chiamato dopo aver riempito l'apposita barra il Mac la modalità a mio avviso più interessante è la bounty hunter la bounty hunter non è altro che dover uccidere più nemici possibili tra l'altro la modalità è un 5 contro 5 però in alcune ondate vengono rilasciati dei bot che se uccisi daranno dei dollari extra dopo aver accumulato una discreta somma questi crediti devono essere depositati presso un deposito che troverete segnalato sulla mappa e quei crediti che avete guadagnato verranno versati alla vostra fazione e chi raggiunge i 5000 dollari vince la partita altrimenti a fine del tempo quale fazione ha più soldi vince la partita parliamo delle abilità del pilota sulla sinistra e in basso a sinistra avete una barra se riempite la barra diciamo all'80% vi verrà sbloccata un'abilità per ora nel multiplayer non esistono solo due c'è l'abilità che vi aumenta i danni dell'arma primaria e secondaria che avete equipaggiato mentre la seconda abilità rilascia dei robot con dell'esplosivo che vanno alla ricerca di nemici in automatico dopo aver riempito la barra al 100% potrete scegliere se richiamare il titano oppure no i comandi del robot sono molto semplici il robot non può saltare ovviamente rimane ben saldo con i piedi a terra esistono per ora solo due versioni del mech c'è una versione equipaggiata di lancia granate c'è un'altra versione equipaggiata di mitragliatrice ogni mech ha una propria superabilità perché se nel gioco voi riuscite a riempire anche la barra speciale del mech verrà sbloccata una superabilità del mech dove farete tantissimi danni in poco tempo principalmente per abbattere i mech bisogna usare delle armi appropriate che ogni pilota ha sono armi pesanti come lancia granate e lancia razzi oppure riuscire a saltare in groppa al titano sganciare una batteria poi risaltare di nuovo e rilasciare nel foro dove era prima depositata la batteria una granata facendo così esplodere il titano non sembra semplice ma non lo è perché i titani hanno un sistema di sicurezza che se voi schiacciate il tasto della direzione sinistra mentre vi viene segnalato che siete stati diciamo abbordati da un pilota nemico verrà rilasciata una nube di veleno e il marcapitato morirà in breve tempo ovviamente la nube una volta usata bisognerà aspettare del tempo per ricaricarla un'altra abilità che hanno i titani è quella di effettuare una schivata a destra una schivata veloce a destra a sinistra la schivata anche essa va caricata a meno che non si equipaggi un'abilità per il titano che vi fornisca una doppia schivata oppure una ricarica della schivata più veloce il titano ha delle abilità personalizzabili come il poter teletrasportarlo immediatamente sul campo o aspettare i classici 10 secondi per farlo atterrare però in questo caso si verrà coperti da uno scudo che rimarrà attivo penso per una decina di secondi nel multiplayer della pre alfa ci sono a disposizione per ora 4 classi con pochissime armi ovviamente assaltatore poi c'è la classe del cecchino classe delle heavy gunner delle armi pesanti e c'è la classe diciamo quella per gli scontri ravvicinati con le smg personalmente ho giocato per un po' perchè la volta che ho giocato i server andavano malissimo quindi poi ho riprovato il pomeriggio di domenica scorsa e mi sono divertito veramente tanto le mie speranze su questo titolo sono veramente grandi credo che sia una valida alternativa ai soliti code e ai soliti butterfeed quindi vedremo ad ottobre rilascio il 28 ottobre speriamo bene a prima vista sembra essere una bella promessa la beta è ancora attiva però funziona solo nei weekend oggi è stato fatto un aggiornamento se voi non lo sapete in cui sono state aggiunte nuove armi un nuovo level cap e credo un'altra mappa bene ragazzi spero che il piccolo recap riassunto di questa beta vi sia piaciuto se il video vi è piaciuto lasciate un like se volete seguirmi iscrivetevi al canale bella ragazzi ci vediamo alla prossima ciao